In questo numero del Salus Tg, mappa del genoma in 3D, dall'Italia nuove basi per studiare il DNA, maschio alfa si diventa, scoperto interruttore cerebrale, nanosensori d'oro made in Italy per scoprire tumori e tossine. Un gruppo di ricercatori, coordinati dall'Università di Modena e Reggio Emilia e dall'Istituto Firch di Oncologia Molecolare di Milano, ha analizzato e confrontato diversi metodi matematici per ricostruire al computer la forma in 3D del genoma. I risultati dimostrano la potenza di combinare strumenti computazionali e tecniche genomiche per svelare, con sempre maggior dettaglio, la struttura del DNA all'interno delle nostre cellule. Determinare la struttura tridimensionale del DNA permette infatti di comprendere l'utilizzo del genoma, identificare le modificazioni conformazionali che trasformano le cellule e potrebbe anche contribuire a sviluppare strategie più precise ed efficaci per correggere i loro comportamenti aberranti. Maschio alfa si nasce, ma forse lo si può anche diventare. E questo semplicemente accendendo un interruttore nel cervello. Basta stuzzicare la corteccia prefrontale dorso mediale con una fotostimolazione geneticamente mirata per trasformare un esemplare perdente in un vincente, a dimostrarlo uno studio cinese sui topi. Dalla ricerca made in Italy passi avanti verso la medicina personalizzata. Sono state infatti poste le basi per dei nanosensori con un cuore d'oro, che funzionano come sensori diagnostici capaci di scoprire la presenza di un tumore, ma anche di rilevare sostanze tossiche nel sangue, come droghe o sostanze dopanti. Lo studio scientifico è stato eseguito da ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia e dell'Università di Padova. La scoperta consiste nell'aver chiarito come i nanoparticelli artificiali possano avere funzioni che simulano il comportamento delle proteine, molecole biologiche essenziali alla vita.